Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, nella scorsa notte i carabinieri di Cortona hanno intensificato l'attività di controllo del territorio con 7 pattuglie e una massima attenzione nei crocivia di accesso ai vari comuni e nelle vicinanze degli esercizi commerciali. Identificate 100 persone, controllati 63 e mezzi e ispezionati 3 esercizi commerciali. 4 persone sono state invece segnalate alla procura. Un giovane trovato in possesso di alcuni cacciaviti di grosse dimensioni. Un quarantenne trovato in possesso di 2 grammi di cocaina, il quale è stata anche ritirata la patente. Infine, un 24enne e un 50enne sono stati denunciati perché alla guida con un tasso alcolemico superiore alla consentito. E adesso torniamo a parlare di accoglienza a migranti. La polemica torna ad accendersi anche ad Arezzo dopo che il Comune si è reso disponibile ad accogliere 14 richiedenti asilo. Ennesimo scontro in Toscana sul tema dell'accoglienza dei migranti. Questa volta è ad Arezzo ed è nato tutto da un'interrogazione, tra l'altro dalle fila della maggioranza ed esattamente della Lega in Consiglio Comunale. È stato il consigliere egiziano Andreani a sollevare la questione. La struttura che ospiterà 14 migranti si trova nel Comune di Civitella in Val di Chiana ed è di proprietà della Fraternità dei Laici, azienda di servizi alla persona il cui CDA è nominato dal Comune di Arezzo. Andreani richiama ad un accordo politico stipulato nel centro-destra retino secondo il quale questo tipo di servizio era stato escluso dallo Statuto della Fraternità. Mi risulta che la Fraternità dei Laici, in data 18 luglio, corrente anno, quindi passato questo mese, ha inviato una manifestazione di interesse per l'affidamento di 14 migranti nelle sue strutture. Pertanto si chiede al sindaco e al vice sindaco che ha dato l'input alla Fraternità per partecipare al bando di gestione dei migranti, anche perché chiaramente da sé non penso che abbia potuto partire, visto che c'era stata la scorsa legislatura una decisione che era stata presa a maggioranza dei consiglieri. Ricordo che naturalmente le forze politiche che la sostengono in questa legislatura sono le stesse che l'hanno sostenuta nella precedente legislatura. È vero che sono cambiati dei consiglieri comunali, ma le forze politiche sono le stesse. Dal Comune però si conferma la disponibilità alla richiesta manifestata dal prefetto nella riunione dello scorso 19 luglio di trovare strutture per l'accoglienza. È uno strappo alla regola, nel senso che Fraternità dal 2015, su indicazione del sindaco Ginelli di allora e quindi di ora, è uscita dal circuito dell'accoglienza. Oggi è una situazione estremamente urgente e fa parte di una particolare condizione di emergenza umanitaria, quindi Fraternità non rientra nel sistema dell'accoglienza. Ci rientra in questo particolare momento, in maniera molto circoscritta, perché nel 2023, cioè ora, rispetto allo scorso anno, ci sono il 150% di sbarchi in più, 50.000 circa persone che sono sbarcate o stanno sbarcando nel nostro paese, 3.500 in Toscana, 350 nella provincia di Arezzo. Allora, di fronte a un prefetto che a sua volta ha ovviamente un input a livello nazionale, che chiede un atto di responsabilità, quindi per noi una deroga rispetto a una regola, è chiaro che le istituzioni rispondono di sì. La posizione del consigliere egiziano Andreani è stata avallata anche dai vertici comunali e provinciali del partito. Sul tema migranti non si esclude che il prefetto possa convocare nuovamente, nella prossima settimana, un'altra riunione. È ovviamente necessario, questo sì, avere una rete di volontariato, di solidarietà, di partecipazione civica, che riempia le ore di persone che, lo ricordiamo, sono persone libere, quindi anche possono essere inchiuse in delle stanze, in delle case, non fatti uscire, perché sono persone che probabilmente potrebbero anche avere un permesso allungato a causa di situazioni di guerra, di provenienza. Cioè non è il migrante solo economico, ci sarà anche quello, ma ci saranno anche dei percorsi di protezione internazionale. Quindi la risposta è sono meno soldi? No, tecnicamente sono di più, perché stessa cifra meno servizi. Certo, si apre una domanda, si apre una questione di come accompagnare queste presenze, partendo dal presupposto, io questo lo condivido, che sono presenze finalizzate a un rimpatrio. Quindi la differenza rispetto anche a qualche anno fa, che era un'accoglienza senza fine, questa è un'accoglienza finalizzata a patti internazionali per bloccare gli arrivi e rimpatrio per quelli che non hanno diritto a stare nel nostro paese o nel resto d'Europa. Parliamo adesso di economia. A scattare una fotografia è stata la Camera di Commercio di Arezzo e Siena in occasione della consegna dei premi Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico 2023. Dal premio ai temi più importanti che riguardano la nostra economia, dall'inflazione al tasso di occupazione. Sento Presidente, scendiamo un attimo sui temi dell'attualità. Nell'agenda di governo ci sono tanti punti che sicuramente il mondo dell'economia attende. Uno di questi è questo benedetto cuneo fiscale che dovrebbe essere ridotto e che dovrebbe consentire ai dipendenti di avere più soldi in tasca. Come leggete questo, ma anche altre manovre che il governo sta mettendo in campo? C'è un dato che è oggettivo. Ovviamente la nostra economia domestica che è tenuta in piedi dall'economia che ovviamente le famiglie e i cittadini riescano a mettere in atto con i propri acquisti, la propria attività rischia davvero di subire un colpo davvero purtroppo molto molto negativo. La capacità ovviamente con un'inflazione a questi livelli, i salari, i spendi che non crescono a dovere, quindi la difficoltà davvero di essere al passo con quello che invece l'economia anche richiede, quindi oltre che ai bisogni di queste famiglie. Per cui certamente dovrebbe essere fatta una scelta drastica anche secondo me perché venga riconosciuto questo scollamento e ovviamente il disequilibrio che si può creare che può davvero portare a una crisi importante del mondo economico e quindi ovviamente della tenuta economica dei nostri sistemi. Ci sarà modo poi nel momento della giornata dell'economia o quando vorrete poi diffondere i dati sull'occupazione di fare un focus più preciso, però questi sono i giorni in cui si discute molto sul rettito di cittadinanza, sul fatto che comunque questa misura abbia in un certo qual modo disincentivato l'accesso al lavoro. Ecco, voi avete un punto di osservatorio sicuramente privilegiato da questo punto di vista, ci sono ancora aziende, tante, poche, che non trovano mano d'opera? Questo è un tema purtroppo ancora di forte attualità legato a una ripresa anche improvviso, un rimbalzo della nostra economia che ha ovviamente necessità di mano d'opera e in questo momento la mano d'opera purtroppo non viene trovata, non solo dal punto di vista dei profili professionali ricercati, perché anche bassi profili non vengono purtroppo reperiti. Questa è una ferita, diciamo, importante anche alla nostra competitività, perché le nostre aziende hanno molti ordini e purtroppo non riescono a farvi fronte, proprio perché non riescono a trovare il personale necessario. Certamente ci sono prospettive importanti, anche con la formazione, l'alta formazione, gli istituti tecnici superiori che stanno cominciando, ecco, anche in Toscana, a formare tante persone che non necessariamente devono arrivare a una laurea, ma che hanno la possibilità attraverso l'esperienza professionale di formarsi e di essere pronte ai bisogni delle aziende, però ancora c'è molto da lavorare anche sull'orientamento scolastico. Lo speciale sulla serata delle premiazioni ospitata alla Fortezza di Arezzo andrà in onda integralmente questa sera dopo il Tg alle 21. E ieri invece la Cisla Arezzo ha organizzato un momento assieme alle istituzioni politiche e amministrative del territorio aretino per approfondire il tema della legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione attiva dei lavoratori all'interno delle aziende. Vediamo il servizio di Gratasse e Timelli. Anche il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, ha firmato per la proposta di legge di iniziativa popolare della Cisla partecipazione al lavoro per una governance di impresa partecipata dai lavoratori. La campagna durerà sei mesi e coinvolge ogni regione. È un articolo della Costituzione poco conosciuto e nella maggior parte dei casi poco praticato. La Cisla ci crede tantissimo e per questo che la legge di iniziativa popolare che stiamo proponendo è una sfida importantissima. Perché nel nostro DNA la partecipazione dei lavoratori all'impresa? In varie forme, tant'è vero che la legge di proposta, la legge che proponiamo noi è una legge semplice, leggera, in cui il Parlamento deve soltanto chiedere alle imprese, alle aziende di incentivare la partecipazione, di far partecipare i lavoratori alle imprese nella forma in cui la contrattazione definisce. Noi crediamo che anche il problema del mismatch sia un problema che si può risolvere con questa partecipazione dei lavoratori alle aziende, perché anche i giovani si sentiranno incentivati ad entrare nelle aziende anche con un incarico di minor rilevanza, ma sapendo e conoscendo il futuro di quell'azienda, partecipando per farla crescere. La raccolta firme nell'Aretino era iniziata di fronte allo stabilimento FIMER alcune settimane fa, nelle scorse ore, un nuovo punto di raccolta al Parco Pertini di Arezzo. È un momento in cui anche tanti politici locali hanno aderito a questa iniziativa, ma soprattutto tanti cittadini che hanno capito che tipo di iniziativa è la nostra. Ovviamente a livello personale, per cui nessun partito organizzazione ancora ha fatto una scelta in questo senso, ma noi speriamo che poi a livello nazionale, grazie alla nostra raccolta di firme, ci sarà davvero uno schieramento che vada al di là del confronto demagogico tra i vari schieramenti politici. Speriamo davvero che possa unire il Parlamento in un'iniziativa di legge importantissima e fondamentale per la democrazia del nostro Paese. Ci sono novità positive per la IWV di San Giovanni Valdarno, l'azienda vetraria che in questo momento è in liquidazione coatta amministrativa. All'orizzonte potrebbero infatti esserci persone interessate a salvarne le sorti e sulla questione è intervenuta la CGL. Dopo molte settimane, commenta il segretario provinciale Alessandro Tracchi, oggi si può pensare concretamente al futuro della IWV, un futuro che salvaguardi il patrimonio storico, le esperienze e le capacità professionali ed artistiche di chi lavora in questa azienda, che è un simbolo del Valdarno e non solo. Adesso, secondo la CGL, si tratta di capire chi potrà essere il nuovo soggetto imprenditoriale. La CGL è già pronta per arrivare al miglior risultato possibile nell'interesse dell'intera comunità dei lavoratori, delle loro famiglie, ma anche nell'interesse dei creditori. E adesso voltiamo pagina per parlare di sicurezza idraulica e ci spostiamo in Valtiberina, Pieve Santo Stefano, dove hanno preso avvio vari interventi programmati dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. Tagli e sfalci, ma non solo. La mitigazione del rischio idraulico passa infatti anche attraverso i ripristini di briglie, gabbioni e sponde vecchi danneggiati o caduti. A Pieve Santo Stefano è infatti il Tevere il sorvegliato speciale. Qui il Consorzio di Bonifica sistemerà tre opere idrauliche. Il nostro territorio, 155 km2, è molto delicato e abbiamo una presenza umana veramente bassa su un territorio così vasto. Quindi la cura che deve essere fatta sui fiumi che attraversano questo paese deve essere attenta e precisa. Il primo step è il trasferimento della fauna ittica. Ultimato il trasloco entreranno in azione macchine ed operai. Lavori sono tanti e sono importanti quest'anno perché si parla di 110 mila euro spesi per la manutenzione ordinaria del reticolo di gestione di questo comune, in particolare sul Tevere, sull'Ancione e sulla parte più urbana, quindi anche più abitata, più densamente abitata di questo comune. E poi ulteriori 65 mila euro di interventi puntuali, anche questi che rispondono alle richieste del sindaco stesso, ma anche alle varie segnalazioni che ci sono pervenute dai cittadini di questo territorio, che rimangono sempre per noi un alleato importante, e ulteriori 60 mila euro per la sistemazione e il rifacimento di alcune opere. In particolare una difesa di sponda, in cui sono iniziati i lavori proprio stamattina, quindi una scogliera importante qui a Monte del centro abitato, e poi alla sistemazione di alcune briglie, anche queste per mantenerle in efficienza e garantire quanto più possibile la resilienza di questo territorio. Dalla giostra del Saracino di Arezzo al gioco del Pozzo di Montevarchi, dalla rievocazione della battaglia di Campaldino al palio della balestra di Sansepolcro. Sono 15 le manifestazioni di rievocazione storica nei comuni della provincia di Arezzo che beneficeranno di risorse regionali. Riceveranno oltre 108 mila euro dal budget da mezzo milione messo a disposizione dall'edizione 2023 del Bando regionale previsto dalla legge toscana 27-2021 per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e della cultura popolare. E sempre in tema di rievocazioni, ad Arezzo sino a domenica l'Arezzo Celtic Festival. Terza e ultima giornata della nona edizione dell'evento è in programma appunto domani al Parco Pertini dove si rinnoverà l'appuntamento con la storia. Un'attenzione particolare verrà orientata verso l'aspetto rievocativo che troverà il proprio fulcro alle 11 con la ricostruzione di un matrimonio celtico e alle 17 con i tornei celtici dove sarà possibile sfidare i campioni del clan. Alle 21.30 la conclusione di questa edizione con uno spettacolo dal forte impatto. E adesso ci spostiamo a Cortona. Ma a poco più di un mese dal taglio del nastro sono stati 6.000 i biglietti staccati dal mic per Signorelli 500, maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia. A poco più di un mese dal taglio del nastro sono oltre 6.000 i biglietti staccati dal mic per Signorelli 500, maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia. La mostra celebrativa dei 500 anni dalla morte del grande artista sta riscuotendo un ottimo successo. I dati di accesso al mic rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sono triplicati. La strada delle grandi mostre era già stata tracciata anche precedentemente, dichiara l'assessore alla cultura del comune Francesco Attesti, ma Signorelli 500 sta dimostrando che è possibile anche per Cortona entrare nel novero dei grandi eventi museali nazionali. Fra le visite speciali c'è da evidenziare quella di giovedì scorso, quando il cardinale Gualtiero Bassetti è stato accolto dal sindaco Luciano Meoni. Bassetti, già presidente della conferenza episcopale italiana e vescovo della diocesi aretina, per oltre dieci anni ha visitato la mostra accompagnata da Eleonora Sandrelli, curatrice degli itinerari Signorelli 500. Il risultato, proseguo ancora l'assessore Francesco Attesti, è frutto di una programmazione che è partita tre anni fa di contatti personali che hanno creduto nel progetto e hanno appoggiato l'iniziativa. Dalla MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, invece arriva un insolito appello. È infatti in programma il nuovo progetto Cellularti, il cellulare con tre R, riduci, riusa e ricicla. La volontà del MUMEC è quella di creare un processo di cittadinanza attiva e consapevole sulla tematica ambientale. Da qui la richiesta di una raccolta di cellulari presso la sede espositiva. Si potrà fare fino al dicembre 2023. Il MUMEC invita quindi a consegnare i vecchi cellulari che a conclusione della raccolta saranno collocati in un cubo di plexiglass creando una stratificazione storica ed entrando così a far parte di un'installazione della collezione permanente in esposizione. Restiamo nel cuore del centro storico di Arezzo in Fortezza. Ieri è stata la serata di nada. Un piacere divino ascoltando il respiro Mi prende alla gola, mi sento isolata Dal mondo che gira, che grida, che uccide l'anima Un artista senza tempo sul palco della Fortezza di Arezzo Nada protagonista con il suo tour estivo dal titolo La paura va via da sé se i pensieri brillano Dopo il tour nel club e nei teatri Nada ha portato il suo spettacolo in full band sui palchi dei più importanti festival estivi italiani Uno spettacolo rock ma allo stesso tempo intimo e profondo Nada ha portato il suo repertorio completo con i brani sempreverdi Dama che freddo fa ad amore disperato a quelli più recenti per un concerto assolutamente unico nel panorama della musica live nazionale La nona edizione del Castiglioni Film Festival si avvicina il gran finale con un appuntamento davvero da non perdere con uno dei più grandi protagonisti del cinema italiano degli ultimi 50 anni domani a Castiglioni Fiorentino arriverà infatti Michele Placido ma intanto tra i momenti di questa edizione 2023 anche un omaggio al mondo del doppiaggio italiano Prosegue a Castiglioni Fiorentino il viaggio nel mondo della settima arte proiezioni e ospiti di caratura nazionale nella successiva cornice del piazzale del Cassero per la nona edizione del Castiglioni Film Festival tra i protagonisti di questa edizione Luca Verdone noto regista figlio del critico cinematografico Mario Verdone che ha presentato la sua pellicola Le memorie di Giorgio Vasari quasi completamente ambientata nel monastero di Camaldoli che se lo merita è stato un grande lavoratore un uomo pieno di attenzione e di rispetto per i grandi maestri del rinascimento che non avevano preceduto soprattutto per Michelangelo e per Raffaello lui aveva una venerazione per Michelangelo cosa che si vedrà benissimo nel film e spiegherò anche i motivi della sua venerazione non era una cosa così assorbita superficialmente è stata meditata e giustificata dalle sue opere da tutto il suo operato Spazio poi all'omaggio a Ferruccia Mendola il nuovo doppiaggio in Italia un incontro con cui il Castiglioni Film Festival ha alzato il sipario sui mestieri legati all'universo cinematografico sul palco alcuni dei più grandi doppiatori del nostro tempo pigna, è tutto quello che tengo pigna, è tutto quello non hai nient'altro no, no, no è quelli che hai nelle scarpe non c'è stato niente te lo giuro lo giuro sulla tomba di mia madre guarda, niente abbiamo sempre voluto anche prima della mia direzione artistica nelle edizioni precedenti dare importanza ai mestieri che ci sono nel cinema quindi a quei lavori a quegli operatori che lavorano dietro le quinte l'anno scorso c'era la mostra delle telecamere d'epoca c'è stata la mostra degli abiti dei costumi del cinema e quest'anno invece perché non dare attenzione non prestare attenzione alle voci che ci fa ascoltare magnificamente i film internazionali passiamo alla pagina passiamo alla pagina dello sport al calcio femminile l'Arezzo calcio femminile comunica di aver raggiunto l'accordo con la calciatrice Giorgia Affortunati per il rinnovo con la formazione Amaranto sino al giugno 2024 difensore classe 2022 per Affortunati quella che sta per iniziare sarà la seconda stagione in maglia Amaranto e da una conferma a un nuovo arrivo per le ragazze Amaranto si tratta di Mari Calicco classe 2000 centrocampista centrale con una buona visione di gioco che può ricoprire anche il ruolo di mezzala ed è un gradito ritorno invece quello per l'AMNBC Servizi torna infatti in Amaranto il serbo Dimitri Jankovic che va a rafforzare il reparto degli esterni della squadra a disposizione di coach evangelisti si tratta di un gradito ritorno visto che il giocatore ha disputato la sua prima stagione in Italia con la maglia della SBA quando anche grazie al suo apporto la formazione Under 15 eccellenza conquistò la Coppa Toscana di categoria nella prossima stagione indosserà la maglia numero 12 AMEN BC Servizi questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a l'anima notizia l'anima notizia Grazie.